5 milioni e mezzo di euro, di cui 3 subito disponibili per il biennio 2020-2021. E' quanto deliberato ieri dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara. La somma sarà erogata tramite tre bandi, pubblicati a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Ciascun bando prevede uno stanziamento di un milione di euro. L'operazione è volta ad abbattere gli interessi sui finanziamenti previsti dal decreto Curetalia, ad adottare le misure di sicurezza anticontagio negli ambienti di lavoro e a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali. Si tratta di un intervento straordinario ed unico nella storia della Camera di Commercio, ha dichiarato il presidente Gennaro Strever. Il nostro obiettivo, nel rispetto della salvaguardia delle vite umane, è garantire una ripresa veloce della produzione. Ripartire con intelligenza le parole d'ordine.